di Fulvio Bartolini, grazie mille di essere qui con noi, vorrei salutare anche Dina Turrini della Carossa, ciao Dias, grazie mille. Bene, partiamo con un bellissimo walzer del maestro secondo Casadei, Villaggio. Visto che suonano dal vivo devono cercare la musica, è nella V, l'ho trovato, bene, Villaggio. Vai professore. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.